Salve e benvenuti in Dr. Spy. In questo video vi mostriamo il nostro registratore ad attivazione vocale occultato in un ciondolo. Adesso andiamo a vedere più nello specifico le caratteristiche di questo registratore. Ecco come si presenta il nostro registratore ad attivazione vocale occultato in un ciondolo. Come possiamo vedere è molto piccolo, nonostante le piccole dimensioni a una batteria a litio ricaricabile di lunga durata. Ci consente di attivare la funzione registrazione solo quando c'è effettivamente un suono nell'ambiente. Questo ci farà risparmiare tempo nell'ascolto dei file audio perché non rischiamo di ritrovarci di fronte dei file di diverse ore molto silenziosi. La batteria nello specifico ci dà la possibilità di farlo rimanere acceso con questa modalità fino a 5 giorni stand by con oltre 20 ore di registrazioni in continuato. Il dispositivo ha integrato una memoria fino a 8 giga che ci consente un'archiviazione di file audio per oltre 100 ore ed in più abbiamo un microfono omnidirezionale fino a 6 metri che ci permette di ricoprire tranquillamente un ambiente di circa 15 metri quadrati. Troverete il nostro dispositivo presso lo showroom oppure direttamente sul sito internet drspy.it. Grazie per averci seguito, ci vediamo nel prossimo video.